erano dei colpetti sospetti colpetti sospetti colpetti sospetti vediamo la camera ecco forse questa è un po' più grossa del solito eh ma mi sa che non c'avevano cazzo eh devo andare di qua che cazzo basta che non finispe in acqua ho capito subito da come tirava che era un cavello poi ho mangiato dal castoro ok eh sei grosso eh madonna ma sai cosa faccio io questo oggi lo libero o lo mangio non ho mai mangiato un cave da novellare porca puttana cos'è che è successo adesso qua è entrato dentro il filo dove ma signor rientrare di qua una cosa così non me l'ha mai capitata che entra il filo allora vediamo un po' questo qui oggi perché no ma è mangiato madonna ma cazzo mi piace proprio la camera è sfiora sfiora al chino io sempre lasciati andare ma cazzo lo portavo a casa